L'atelier si pone l'obiettivo di coniugare la disciplina della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali con la pratica del progetto architettonico del nuovo. Per raggiungere tale scopo, il laboratorio si concentrerà sullo studio di un bene appartenente al patrimonio industriale e sulla riflessione e l'opportunità dell'inserimento di nuovi volumi all'interno di tale contesto storicamente stratificato. L'insegnamento concilierà il progetto di trasformazione del singolo caso a esercitazioni su altre realtà a differenti scale, utili a stimolare le idonee riflessioni e a trasmettere un'opportuna metodologia di intervento. L'atelier si svilupperà in due fasi, una prima proposta a scala urbana di Masterplan, sintesi delle prime idee generali di intervento e una seconda e conclusiva fase inerente al progetto finale di ciascun gruppo di lavoro. L'atelier Restauro Progetto è un momento di studio, di comprensione e di proposta progettuale di architettura pensato per sperimentare la multidisciplinarietà.